Go for Napoli! Chi è? Mami Adesso si concentriamo per favore E ciao a tutti ragazzi, oggi siamo su un nuovo video e facciamo Napoli versus Napoli Nel prossimo video faremo Mila versus Mila e nel prossimo ancora faremo Cagliari versus Cagliari e nel prossimo ancora faremo Udinese contro Udinese Scrivete un commento con la squadra che volete che giochia con la sua squadra cioè squadra contro squadra Sì! E cos'è questa spada? E io li sconfiggerò con questa spada Ah, ho riportato il mio potere supremo, Giacchiai Benissimo, allora è sicuro che con il Napoli vinciamo contro il Napoli Beh, insigna, insigna, scusami Andiamo con il video, buona visione Ok Allora, siamo arrivati rieccoci e facciamo Ah, qui dobbiamo schivarlo e poi tirare No! Ci credo, ci credo Questa qui è la nostra mini sfida allenamento che facciamo sempre No! Vicinissimo! Io sono quello in alto Dai! E andiamo! Let's go! Let's go! Vi ricordo anche di iscrivervi Al mio canale che si chiama Play Moita Solo che io sto perdendo di brutto Come stai perdendo? Dai! No, io... Ho vinto io la sfida allenamento? Sì, ma intanto perdo di brutto io non so fare queste cose 3, 2, 1, via Vai, passa! Allora, io ho il triangolo... Non c'è lì Benji! No! Io ho quello blu Ah, non c'è il fuorigioco È modalità classica Credo che non ci sia il fuorigioco No, no, l'ho tolto Passa! Ops! No! Mi sono distratto, scusa Stavo pensando al fuorigioco Non pensare al fuorigioco Caion è fortissimo Ok Sto brutto Caion Di Lorenzo, Di Lorenzo Sto guidando Di Lorenzo E faccio un filtrante altissimo Che lo prende Chi lo prende? Te lo prende! Alan! No! Un cross bellissimo Il signa è contro di noi Contro di noi il signa Alan contro di noi Anche noi abbiamo il signa Avanzi a Merten sempre contro Dai, ma questo Napoli è forte Mamma mia, ma una squadra quasi più forte dell'Inter Il Napoli No! Ok, adesso il mio potere supremo è si è attivato Attivo anch'io il mio potere supremo Ok, l'ho attivato Dai, passa Riccino o lontano? Se non l'avete capito io e Cristian siamo nella stessa squadra E siamo il Napoli E giochiamo contro il? Napoli! Quindi Napoli vs Napoli Ma che storia è questa? Quindi Insigne contro Insigne Mertens contro Mertens Alan contro Alan Kulibali contro Kulibali Immobile contro Immobile Ma Immobile è del Ciro Ah già, Ciro No! Ah, non c'è un po' Lazio volevo dire Allora... Adesso si concentriamo per favore Sì! E certo! Immobile gioca nel Ciro Ma che Ciro? Ciro poi anche il dinosauro è trovato in Italia a Napoli Davvero? Si 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 Ah, ragazzi lo sapete che il primo dinosauro Cos'avevo? Avanti, avanti, avanti ti faccio un filtrante super Trovate in Italia No! Oh! Si chiamava Ciro Si chiamava Ciro ed è stato trovato a Napoli A Napoli Ma è vero o è una favola? E' vero Vai, vai Dai, dobbiamo fare gole Ora concentriamoci Filtrante Filtrante alto Dessutti li faccio bassi i filtranti Ecco Oh! No! Tacchetto Hai visto che ho fatto la finta? Dai, però Eh, ho fatto la finta e ho fatto il tacchetto per te No, eh, però l'hai fatto troppo piano Eh, non ho tanta forza Allora, abbiamo Mertens, Milik contro di noi Ecco che io che arrivo con Kulibaly Mamma mia, mamma mia Questo è Napoli? Non è che ci... No! No! Uh! Tirano sempre fuori Sì, ma noi non abbiamo neanche tirato una volta Dai, dobbiamo darci da fare Eh, neanche una volta abbiamo tirato Ecco Questo è fallo! Brutti Beh, giocare contro se stessi Hai vinto corrotto Ok, ok, andiamo su, dai Kaion, Kaion Cristian con Kaion, avanza Io sono dietro di te se avessi bisogno di supporto Cosa fai? Bene Tiro Tiro Go! Goal! Raso terra Ma io te l'avevo Insigne Guarda, fa la... come si chiama questa? Infiniti dub Infiniti dub Infiniti dub Infiniti dub Infiniti Infiniti dub Immobile, eh Chi ha segnato? Eh, insignia Ah, insignia Io ce l'ho... Insigne! Insigne! Non so perché ce l'ho con immobile Immobile della Lazio! Nooo, no, te non passi di qua Oh, dai, è tua, è mia Te lo passo lassù Nooo! Nooo! Alla... 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 Ah... Mertes No, vai, vai Nooo! Oh, mio Ma dove sono io? Bellissimo! Il nostro portiere Meret 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 Vabbè, chiamalo come vuoi Allora Vai su, vai su, vai su Vado su, vado su Vai, sono avanti, sono avanti Oooooh Lo fa proprio Milik Il pallonetto Il pallonetto Guarda che pallonetto Bellissimo E io come l'ho fatto il gol? Prima l'ho fatto il raso terra Sì, raso terra Io pallonetto Guarda questo visuale Ah no, non è pallonetto Chi? Dai, però l'hai spiazzato È un giro, un tiro a giro, vero? Sì, quello lì, così Tiro a giro Tiro a giro Tiro a giro Tiro a giro Tiro a curva Quarantesimo Cognome strano Chi? Milik Il nome è Milik Cognome stranissimo Ma stranissimo Così, un nome del genere Scivolata Non lo prendo Salta la mia scivolata, eh? Nooo Ohhhh Il Napoli Se non è guidato da noi Non ci sa fare Grazie Finto di qua Non rin... Ah, ok Ops Mano l'asso Filla giù Ma cosa fai? Palleggiavo un po' Esce, esce il partito Nooo Ma che... Gol che abbiamo preso Bravo papà Bravo Non è colpa mia Sì, è colpa tua Ragazzi, era colpa mia Sì, perché hai palleggiato Milik T'è arrivata la palla Guarda Vedi, così Tag E tac E quindi sarebbe colpa mia adesso Eh Ma io non lo credo Ragazzi è colpa mia O no? Oppure poteva... Ero imparabile questa cosa? Fatemelo sapere con un commento È colpa sua Hashtag è colpa tua Se è colpa mia Hashtag è colpa mia Io sono il suo Io sono il suo Vai Lassate Vai Arbitro corrotto Ma si è affischiato perché è finito il tempo È minato Prima ero caduto E non mi ha dato il fallo Si vede che non l'ha visto Forse puoi dire arbitro cieco Arbitro corrotto e cieco Cos'è? Almeno la prendo È una macchina da guerra in signa Ma 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 Mi concentro un attimo per Vai lassù Per farti fare gol Bene Eh che gol Maravissimo Dritto secco in porta Dove va? È uscito dal campo Però può andare fino al rosa quello lì Non può andare vicinissimo quella gente Appure non si può togliere la maglietta È buona gente È come ha fatto Ronald una volta Con i muscoli lui Ah si Contro Liverpool mi sembra No è contro Dove giocava una volta Delict Prima che andava Allora quiz di calcio Ajax Ajax Dove giocava Delict Ajax Prima di andare allo Juve Ajax Ajax Ti sei fatto male Ajax Go Fennapare Number 5 Number 5 Alla Chi è 5 Ah si 5 È il giocatore più bravo del mondo È il centrocampista What? Ferna! What? No! 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 Mamma mia Chi è? No! Ma è questo? Shhh Aspetta È questo Ma è questo Ma è bene È uguale Io sentivo che È uguale È uguale Qualcuno ci ha bussato alla porta. Chi sarà stato? Un fantasma? Una persona? Non lo so. Ho sentito dei colpi tremendi. E te che stai sentito? Quale cosa? Ti sei spaventato? Io penso che erano di qua. Siamo andati a vedere fuori, però non c'era niente. O forse venivano di qua. O forse dal cielo. Mamma mia, speriamo di no. Dai, continuiamo la nostra partita. Vai, andiamo. Dobbiamo vincerla. 3 a 1. È fantastico. Andiamo. Quanto manca? Siamo al 56esimo? No. La palla tua. Esci, esci Mertens, esci. No, Meret, che Mertens. Dove fare il filtrante. Brello, bello, brello, brello. E mezzo? Vai. No. 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 Ma a me piace tirare di prima. E anche passare di prima ogni tanto. Ma non sempre. Ok, ok, ok. Dai, Cristiano. Il potere supremo è andato via. Come? Oh no. No. Uculi, 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 balì. Qua sono libero, davanti a te. Dai, vai avanti. Io vengo più avanti e ti faccio un filtrante di quelli megissimi. Dai, mega. Guarda, c'è uno là. Dove? Ma io vengo più avanti che posso. Dove sei? Vai, mettimela in mezzo. Vai. No, abbiamo sprecato tutto. Ma me l'hai messa vicino al portiere. Certo che l'abbiamo sprecato tutto. Questa era di prima. Vai. Dietro. Vai. Vai. Vado, grosso. Vai di testa. Ma no, ma è peccato. Ok. Passa. Dove sei? Laggiù. Filtrante. Filtrante. Tiro. No, culli, balì. Troppo forte, culli, balì. Eh sì, ma anche noi ce l'abbiamo. Elmas e Fabian facciamo anche noi. Hanno cambiato. Ah, tu fai lo stesso cambio di loro? Eh certo. Hanno tolto Fabian. E hanno messo Elmas. Ok, anche noi. Copiamoli. Sì, veramente copiati. Culli, 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 panni, culli, panni. Lo marco io questo. Lo sto marcando io. Ok. Lo marco io. Li marco io. Li marco io. No. Ah. Che tiro moscia. Che tiro moscia. Oh, io faccio uscire il portiere. Oh, no, no, no. E' gol. Vamma mia. Non far uscire il portiere da quelle condizioni. Ma non è colpa mia anche questa adesso. No, ma è solo la colpa del Purti che esce prima. Deve rimanere in porta da solo. Così la para. E siamo 3 a 2. Un gol e pareggiano. Io sono avanti. Se vuoi fare un infiltrante. Vai. Attento. Ok. No, bello, bello. No. È bella, farò. Bella. Oh. Sì. 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 Vinciamo. Sì. Cavolo, abbiamo vinto. Sì, Napoli vince contro Napoli. Sì. Il Napoli è più forte di se stesso. Ok. Abbiamo vinto finalmente una coppa contro se stesso Napoli. L'altra era proprio, come dire, una testa dura, un po' testarda. È così. Quindi ci hanno due fatto gol. Uno Mertens e l'altro Cajon. Mi sembra. Mi sembra. E però, che cavolo. Quiz di fine video. Quali giocatori del Napoli hanno fatto gol in questa partita? Scrivetelo nei commenti. E sarete dei veri fans fantastici di Cree Cree JTV. Iscrivetevi anche al mio canale che si chiama Play Mojito. Link in descrizione. Se giocate forte su Brecarator, Play Mojito. Ciao a tutti. Ciao. Sperate le corse mie. Se vi è piaciuto, ciao ciao. Cree Cree JTV. Ciao ciao.